Ai dipendenti dell'amministrazione provinciale di Sernia non sono state pagate le somme relative alle loro performance. A tal riguardo due consiglieri, Angela Perpetua e Cristofaro Carrino, hanno presentato una interrogazione. Abbiamo portato questa interrogazione in consiglio nonostante era evidente che il problema fosse ben chiaro a tutti, però crediamo che è raggiunto il momento per portare anche all'attenzione all'esterno, non soltanto all'interno della nostra minoranza, ma anche agli altri consiglieri della problematica che oramai era estremamente diffusa. Il problema riguarda soprattutto le famiglie che in questo momento hanno delle gravi difficoltà, soprattutto dal punto di vista economico, con tantissime congiunture che si sono unite nello stesso periodo e che chiaramente necessitano di poter contare anche su quello che è un loro diritto. Hanno già svolto abbondantemente il loro lavoro e purtroppo ancora non vedono retribuito quello che dovrebbe essere il loro compenso, non arriva ancora. La risposta del Presidente Alfredo Ricci non si fa attendere. La competenza da un punto di vista politico purtroppo è molto residuale, nel senso che noi possiamo impegnare, come facciamo, come abbiamo fatto anche col bilancio di quest'anno, le somme necessarie e previste, dopodiché tutto ciò che riguarda la quantificazione, la liquidazione e il pagamento compete agli uffici. Rispetto a questo noi come parte politica non possiamo far altro che sollecitare l'adozione degli atti in tempi rapidi, lo abbiamo fatto ripetutamente e soltanto in questo Consiglio ho ricordato quanti solleciti formali, per non parlare di quelli informali ho inoltrato alla struttura. È evidente che rispetto a un ritardo iniziale che poteva, se vogliamo, anche essere considerato fisiologico dell'anno scorso, adesso il ritardo dal mio punto di vista è esagerato, è ingiustificato e quindi bisogna procedere, procedere rapidamente alla liquidazione e al pagamento, perché i dipendenti di questo ente si danno da fare per garantire servizi a tutto il territorio, lo fanno con abbenegazione, lo fanno con impegno, con serietà e quindi come conoscono i doveri devono giustamente avere anche riconosciuti i loro diritti.